Ciao a tutti e benvenuti finalmente in questo video dedicato al Prime Day che è il giorno nel quale si possono trovare le migliori offerte di sempre su Amazon pubblicherò questo video proprio nel momento di inizio del Prime Day cioè lunedì 16 alle ore 12 so che molti stavano aspettando questo giorno proprio perché appunto in questo giorno si riescano a trovare delle offerte incredibili su Amazon in questo video quindi vi indirizzerò a quelle che secondo me sono le offerte più interessanti ovviamente per quanto riguarda i settori che mi rappresentano un pochino di più qui sul web quindi fashion, beauty innanzitutto nel box informazioni trovate il link ad Amazon Prime per creare un account nel caso non l'abbiate anche perché essere clienti Prime è l'unico modo per poter fruire di queste offerte io sono cliente Prime ormai veramente da tantissimo tempo e mi trovo molto bene perché abitando un po' fuori città riesco ad avere delle spedizioni in tempi veramente rapidissimi uno massimo due giorni io ho i prodotti che ho ordinato qui a casa poi le spedizioni sono gratuite quindi è comunque una cosa che in generale vi consiglio di fare a maggior ragione oggi per poter fruire appunto di queste offerte poi ragazzi ovviamente non potendo avere tutti i prodotti in offerta fisicamente qui con me ovviamente ho però qui un fantastico elenco con le varie offerte quindi adesso ve ne parlo così a voce nel box informazioni poi vi elenco tutto in modo da organizzarvi al meglio lo shopping nel senso vi metterò le macro categorie quindi il link alla macro categoria della quale vi parlerò e poi magari all'interno quindi al di sotto vi metto il link di singoli prodotti che secondo me vale la pena insomma dargli un'occhiata insomma se siete interessate comunque trovate tutto quanto riorganizzato nel box informazioni ragazzi quindi quindi ragazzi computer alla mano e adesso andiamo a vedere quali sono le offerte secondo me più interessanti allora ragazzi sezione abbigliamento abbiamo degli sconti fino al 30% per uomo, donna, bambino e c'è anche un 20% extra di sconto sempre nella sezione moda vi lascio appunto il link delle macro categorie nel box informazioni e al di sotto vi lascio i link di alcuni capi che secondo me sono veramente super sfiziosi, super interessanti come vi dicevo gli sconti ci sono su uomo, donna, bambino ma nel box informazioni vi lascio poi al di sotto i dettagli per alcuni capi molto interessanti donna ovviamente ci sono dei capi veramente molto molto carini però è inutile che adesso ve ne parli così perché appunto non ce li ho fisicamente li sto puntando anche io quindi ragazze ok teniamoli sott'occhio poi invece arrivando alle scarpe ci sono degli sconti molto interessanti perché abbiamo fino al 50% su scarpe sportive tra cui ci sono anche le superga, le vans, le new balance che voi sapete io ad esempio le superga le utilizzo tantissimo volevo provare le vans, vi dico la verità perché sono delle scarpe che mi attraggono molto ed è un po' che volevo provarle però insomma vediamo un attimino comunque fino al 50% di sconto è veramente tantissimo poi se vi può interessare ad esempio Timberland, Clark oppure Lumberjack, Birkenbergs, Stonefly abbiamo fino al 30% di sconto ok ragazzi orologi fossil abbiamo fino al 30% di sconto cioè io sono emozionata poi c'è il 30% di sconto sull'abbigliamento sportivo in esclusiva su Amazon e anche questo ragazzi è super interessante sto facendo una super scansione delle cose che interessano di più a me perché ovviamente se mi seguite credo che molto probabilmente avrete delle preferenze insomma abbastanza simili alle mie quindi sto cercando di dirvi quelle che sono le promozioni che attraggono più me e le leggo perché non me le posso ricordare tutte anche perché sono tantissime poi ragazzi se come me viaggiate abbastanza ci sono anche degli sconti del 30% per quanto riguarda i bagagli Amazon Basics selezionati quindi anche questa è una categoria secondo me molto interessante che vi lascio nel box informazioni sempre allora ragazzi per quanto riguarda il beauty che so che anche questo vi interessa tantissimo abbiamo degli sconti fino al 40% allora fino al 40% per appunto il make up i best seller del beauty insomma diversi prodotti comunque il 40% è veramente moltissimo per quanto riguarda make up beauty poi ovviamente appunto queste sono le macro categorie e poi sempre nel box informazioni che ormai l'avrete capito vi metto qualche offerta singola super super interessante mi faccio una super scansione al di fuori del video così almeno questo viene super riassuntivo e credo che possa essere la cosa migliore insomma per voi così almeno andate poi a colpo diretto all'interno del box informazioni dove comunque trovate scritto tutto personal care ragazzi nella sezione personal care ci sono delle offerte veramente molto molto interessanti sia per i prodotti brown che abbiamo anche fino al 60% oral b fino al 50% ragazzi io ho provato di oral b lo spazzolino elettrico non so se avete visto il video nel quale ve lo mostravo il video haul mi sto trovando benissimo mi sto trovando veramente benissimo quindi se riuscite a prenderli anche in offerta secondo me tanto di guadagnato e fino al 50% è veramente tantissimo ci sono delle offerte per gli asciugacapelli e io un asciugacapelli me lo vorrei prendere perché ne ho uno molto buono però ne vorrei uno più potente onestamente perché ne ho provati alcuni più potenti e ho visto che riesco ad asciugare i capelli più velocemente quindi quello è nella mia lista insomma un phone più potente poi ci sono anche delle offerte per philips beauty philips oral care ci sono delle promozioni molto interessanti remington fino al 70% che ragazzi il 70% è tantissimo ok ok ragazzi quindi spero che questo video possa esservi tornato utile se vi va poi fatemi sapere nei commenti se siete riusciti a trovare qualche super offerta insomma grazie a questo video mi farebbe enormemente piacere niente direi che con questo è tutto io non vi rubo altro tempo allo shopping vi rimando al box informazioni se questo video vi è stato utile lasciate un bel pollice in su non vi dimenticate di iscrivervi al canale di attivare la campanella io come sempre vi ringrazio tantissimo per aver seguito anche questo video vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao